Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla ed uscire vivo. Anzi, anzi non sarai neanche sicuro che sia finita quel davvero. Ma su un punto non c'è dubbio, ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai più lo stesso che vi è entrato. Grazie.